Lo senti, è il suono del vento che spazza la regione, che si infrange sulle maestose mura di questo antico villaggio, che colpisce le grandi pietre di basalto, che incuranti delle raffiche custodiscono 3500 anni di storia. Le più grandi, appena sbozzate, a reggere la base del nuraghe principale, che domina la collina. Le altre, più piccole e lavorate, prodigiosamente messe in opera a secco, in file circolari che, salendo, si stringono a chiudere la torre maggiore e le quattro torri minori. Severa fortezza? Castello protetto da muraturrite? Oppure maestusa residenza aristocratica? Il vento risuona nelle camere di questo grandioso complesso nuragico, agitando domande a cui ancora non sai rispondere. Ti sospinge fra le rovine del villaggio di Capanne, che circonda il nuraghe, nel labirinto di viottoli stretti, pozzi, cisterni, fra le tracce delle comunità che hanno abitato questa collina per secoli, fino alle soglie della nostra era. E all'ombra di questo monumento millenario, troverai un testimone superbo dei nuraghi di Sardegna. Uno splendido figlio delle civiltà megalitiche preistoriche del Mediterraneo, che il mondo ha eletto a simbolo da conservare. Sunnuragi. Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco Patrimonio dell'Italia Eredità per il mondo